Se la risposta te la devo dare in termini secchi, sì, Roma è ladrona. Cioè, chi crede che sia un'offesa verso Roma o qualcosa contro la città di Roma è assolutamente intorto. Cioè, a me più volte è capitato di andare a Roma, quando ero anche direttore della Padania, mi capitava di essere invitato alle trasmissioni e c'era qualche tassista di Roma che mi faceva, oh a dottor, mi raccomando, non è che se ne qua rompe i goglioni a Roma, romani. E io dicevo, guardi, io ho grande rispetto verso la città di Roma. Credo che Roma sia il paradigma della storia. Però, come diceva Nice, la storia va rispettata, ma bisogna avere il coraggio di cambiarla.